La tazza teggia è un impasto che si fa con farina di grano, farina integrale e a volte anche mette insieme di girasole che vengono più leggeri, pochissimo lievito, si impastano, ora 24 ore è pronta la pasta e poi si possono riempire tutti i ingredienti che ci sono, c'è prosciutto, c'è salsiccia, c'è carne, di tutto e di più. Invitiamo tutti a partecipare, come noi andiamo alle altre parti, loro vengono da noi. Puccia salentina, noi mettiamo nella puccia prima i pomodori, conditi con olio e sale, l'olio extravergine di oliva salentino della nostra terra, poi ci mettiamo del capicollo di Martina, un attimo e poi mettiamo della stracciatella, sempre con latte pugliese, con panna pugliese, sempre prodotti salentini, questa è la pugliese. Grazie! 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 Grazie!